Ci troviamo in piazza 11 settembre per promuovere la manifestazione e sesto concorso canore interpreti di musica leggera italiana. Alle mie spalle abbiamo i miei collaboratori della Voce Produzione e lo stand operativo 24 ore sopra 24 per promuovere appunto questa grande iniziativa. Questo concorso è un concorso che si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 21 presso il Cinema Garden di Rende qua in provincia di Cosenza dove otto talenti venuti praticamente da ogni parte d'Italia sono riusciti a superare una grande serie di audizioni e selezioni e sono riusciti a conquistarsi questa serata finale dove appunto riusciranno a duettare con otto big della musica italiana. Potete vedere un pochettino qua i nomi, ci sarà Laura Bono, Sonora, Simona Bencini, Paolo Vallesi, ci sarà un'orchestra dal vivo, 10 coristi, vi aspettiamo!